Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà. Perché la venne dagli estremi confini della terra, per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Continua l'insegnamento della parola di Dio sulla trasformazione che Dio si aspetta da noi, il passaggio dalla legge alla grazia. Perché la legge ti può dare solo lo schema del bene, ma non lo rende operativo. Ti può indicare che cosa è male, che cosa è sotto la sufficienza, ma non ti ripara dal male, più di tanto. Notate anche nella società civile che le leggi più repressive non arginano i delitti. E che in certe società, come negli Stati Uniti, la pena di morte non diminuisce il numero dei delitti. Invece la grazia di Dio suscita il volere l'operare, anche quello. Quello che tocca a noi, cioè il volere l'operare, però Dio lo sa suscitare e lo sa risuscitare. Perché Dio è così. È creativo e ricreativo. Ecco la supplica, l'invito di San Paolo nella lettera ai Galati. Fratelli, noi non siamo figli di schiavi, ma di una donna libera. Siamo figli di Dio e della Chiesa. E Cristo ci ha liberati per rimanere liberi. Siete dunque sali, non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Cioè non tornate indietro alla logica della legge che vi dà lo schema del bene e del male. Ma non ti può dare la forza per contrastare il male, per operare il bene. E allora San Paolo fa proprio il confronto paradigmatico. Lo dice qui, c'è un evento che è successo al nostro padre Abramo, nostro padre della fede, che rimane per sempre e diventa un'allegoria del rapporto tra la schiavitù della legge e la libertà della grazia. Perché appunto, cosa dice la legge? Eh, guarda, tua moglie è sterile e quindi te la devi cavare in qualche modo. Allora la legge aveva prescritto che si poteva prendere una schiava che poi partorisse sulla ginocchia della moglie. C'è la donna libera. Ma non funziona. E poi la grazia invece funziona anche meglio di quello che ti immagini. E cioè, la donna libera, la moglie vera, Sara, anche se fuori età, rimane incinta e viene fuori tutta la storia della salvezza. E Abramo ebbe due figli, uno della schiava e l'altro della donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, e cioè il nostro tentativo umano di mettere a posto le cose, di ottenere lo stesso quello che non riusciamo a ottenere. Non funziona. Invece il figlio della donna libera è in virtù della promessa, vedi, le promesse di Dio. Guarda che tu avrai una grande discendenza. Bisogna fidarsi. Infatti poi San Paolo spiega, guarda che questa è un'allegoria, sono le due alleanze. Infatti le due alleanze dell'Antico Testamento sono proprio il rapporto tra la legge e la grazia, tra Mosè e il nuovo Mosè. Tra Adamo e il nuovo Adamo. C'è una creazione corrotta dal peccato e il nuovo Adamo che invece viene a ricostruirla attraverso la grazia. È così il rapporto tra le due donne, Agar e Sara. E allora San Paolo ricorda che nella scrittura sta scritto anche così. Rallegati, sterili, tu che non partorisci. Tu che non partorisci, grida di gioia tu che non conosci i dolori del parto. Non perché la sterile sia in una condizione umanamente buona, ma perché Dio sa risuscitare il volere e l'operare. Sa rendere fecondo anche un grembo sterile. Cioè sa colmare di grazia chiunque si rivolga a lui gli dica Signore non ce la faccio. Signore con le mie forze, le mie forze non bastano. Molti sono i figli dell'abbandonata più di quelli della donna che ha marito. Arriva a dire così provocatoriamente. Di fatto sulle soglie della grazia al passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento noi vediamo una figura di Elisabetta e di Maria una sterile e una vergine e tutte e due diventano feconde per opera della grazia. Allora, i cristiani e le cristiane dovrebbero partire da lì. Ecco, quindi è vibrante l'invocazione di San Paolo. Cioè non tornate indietro, vi prego. Non tornate dalla libertà della grazia che anche quando non ce la fate più vi sa risollevare alla schiavitù della legge che ti fa vivere sotto sforzo e con pochi risultati. Ma è così. In questo senso l'Evangelo dove Gesù rimane proprio infastito a sta gente qua. Diceva, questa generazione è malvagia perché chiede un segno, il segno è lui. Il segno dei segni è proprio lui. E questi non lo vogliono vedere. E lui la grazia in persona e vogliono vedere altri segni, segni di potenza. Vedi, sono ancora schiavi della legge. Non vogliono capire invece che la miglior condizione per ricevere da Dio il volere e l'operare e insieme a questo tutti gli altri doni. Il Vangelo di ieri diceva vita eterna e cento volte tanto anche nella vita terrena è quando sei umile e ti arrendi alla grazia. Quando invochi il Signore, non quando pretendi di riuscirci per conto tuo. E infatti Gesù dice non avranno altro che il segno di Giona che sarebbe il mistero pasquale. Ma cosa vuol dire? Appunto il giorno che ha fatto il Signore come noi celebriamo liturgicamente nel tempo di Pasqua. Cioè non l'opera delle mani dell'uomo ma l'opera che Dio compie anche attraverso le mani dell'uomo. Perché la cosa bella nella vita di grazia è che non è che noi rimaniamo passivi ma Dio ci coinvolge nell'opera della sua grazia. Mette a disposizione mente, cuore e mani per realizzare le sue grandi opere. Come sempre Signore ti chiediamo aumenta la nostra fede. Fa che non induriamo il nostro cuore ma che ascoltiamo ogni giorno la tua voce. Grazie a tutti i nostri spettatori